Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono SunnyGhost e oggi siamo con... Manuel! Ma è bello! Mi ha già cercato di fare un video, ma mio mambo mi ha chiamato! Oggi siamo appunto a fare una missione di... Tanto robocobby a questo, di Watch Dogs 2 E non posso portare video riguardante la campagna perché l'ho già finita e... Non ci avrei voglia di... Come si è iniziato? Di riniziare un po' Oh sì, c'entra, c'entra a... Così guarda No, 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 no Manu, mano, se ti vedono... Manu Ho rotato uno, ho rotato uno, questo è bellissimo Ho ucciso uno Ok Ok Nasconditi Uccisi... No, no, non corre, non corre, se non ci senta Ok, l'ho ucciso Ok Ok Bisogna entrare di qua Non far scoppiare quel coso Ah, l'hai già ucciso? Ok Allora Te no, è bravo Ok Io intanto entro con il jumper Dalla dentro e guarda un po' la zona Ok, ti ho aperto la giù Ti ho aperto la giù Guarda un po' la zona e cerco di aprire anche il coso Oddio, c'è un... c'è qualcuno Aspè, perché non lo vedo Ah, ok, c'è una chiave dentro quello lì Qua dentro c'è una chiave Per poi... Ok Ci dovrebbe essere uno con la chiave, Manu Attiva il NetHack e provo a vederlo Eh, fammi vedere, fammi vedere Ok Ok, lo vedo Vai, ho preso la chiave Ok Però Aspetta, eh, te rimani qui Rimani così Perché io Ho visto che c'è qui Oh ma No, no, no Non è morto, no Ok Eccolo Che era vicino anche a noi Ok ci sono Doveva entrare Il tuo compagno è attaccato dall'FBI Dai Ti sei fatto scoprire Oh, vedo un cane Aspetto Mi spiace Ma lo devo uccidere Non volevo Ma io non posso passare dove sei tu Così Ok Scarica i dati Bisogna stare qui Aspè intanto Quello Ah, che lei ha disattivato Ok Stanno venendo da noi Riparti C'ho il goblin, vero? Sì Ok Anche io c'ho il goblin Eh, sì, infatti A me piace il goblin È forte È forte È parecchio forte C'ha l'attenzione di fuoco È buono Attenzione Emanuele di informatio Occhio stanno arrivando eh Mi hanno Mi stavano per vedere Sì Ok Ah, addirittura i rinforzi hanno richiamato Oh, c'è qualcuno Ok Non mi vedo Non mi vedo Non so stanno entrando Già, guarda come è morto il cane lì Guarda Guarda Muoiono malissimo E gli sparo No Ah, pensiamo con l'arma con quello Ok Scappa 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 Cavolo Molto soffro la macchina Molto dentro la macchina Ok Mi fermo un attimo Mi fermo un attimo Ok Veloce, veloce Vai, 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 vai Spero che intanto sparo Oh, idiosi Come si sparava? Come si sparava? Come si sparava? Non mi ricordo come si spara durante un... Mentre sei morto Sì, è normale È normale Quando sei accanto è normale Ah, è vero Oh, c'è un luogo scout x vicino No, non ci possiamo fare la foto Ci sono i miei Io mi voto! Anche io Io non ho preso neanche danno Aspetta, mi fò la foto per scout x Buona, addirittura Oh, ma dai, ma perché non ci fa sfuggire Golden Gate E Manuel bisogna scappare Aspetta, sì Ok Il nostro macchinino Oh, oh Questa Ah, siamo sfuggiti No, sbagliato Mamma mia Ovviamente Prendiamo i cosi qui Seguimi Seguimi Perché qui c'è Quei cosi Che una tira Che prendo la macchina Bene ragazzi Il video ha finito Durato poco Abbastanza Ehm Ringrazio Manuel Per aver partecipato No, c'è la polizia Vai, c'è l'ultimo inseguimento Andiamo Andiamo Fammi entrare Monzo Monzo Vai, stara Perché mi ha cambiato l'arma Oh 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 Le ho fatto scoppiare la macchina Mi sta per fare scoppiare Vai che lancio No No Ah sì Ho sbagliato Non stavo guardando ma Compagno scoppiare Ah ok Compagno scoppiare Oddio uno Oddio Oddio Mi sa che me hanno È inquidabile Questa macchina Vai, vai, vai Scappa, scappa, scappa Oddio È inquidabile Oddio Oddio Ho bisogno di una macchina Cosa hai detto? Che è inquidabile Questa macchina fa Eh lo so Se hai segnato Se hai segnato Oh no Quella No Era abbastanza veloce E' quella No E' comparsa Era lì Bianca Occhio occhio Se vai pure incontra la polizia Alla polizia Eccola eccola Blocca questa macchina bianca Che è veloce Abbastanza veloce Ok Però non devo stare No Avrei dato a me Vai No Ma che cavolo Vai Entra Oddio Vai 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 Entra Vai Entra Vai 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 Nizzelli Sperta Ce l'hai la brisa per distruggere l'elicottero No Ok Allora facciamo così Facciamolo passare avanti No Sbagliato Sbagliato Cos'hai fatto Perchè No Grande Sì Vabbè Da ma quanta gente c'è Sbagliato Sbagliato Sbagliato